37.1 chiamo la dottoressa si salve dottoressa no la chiamo perchè ha la febbre a 37.3 cosa devo fare? la visita? vengo lì? e vabbè però un'occhiatina giusto per controllare che sia tutto a posto comunque 37.2 non è una temperatura normale quindi secondo me dovrebbe occupato amore allora cammina da qua devo vedere come metti i piedi per favore ecco no però amore non mi riesci a vedere i piedi un po' più dritto? ha i piedi storti dottoressa si salve no la chiamavo se mi puoi vedere la bambina perchè secondo me quando cammina il piede lo tiene però non lo deve vedere è occupato si salve dottoressa salve no la chiamo perchè ho notato che ultimamente sono un paio di giorni che quando fa la cacchina così ecco strizza gli occhi quindi secondo me ha mal di pancia non è che me lo può visitare chiamata numero 153 154 si dottoressa salve si 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 no no da ieri a oggi non è successo niente però io non le ho chiesto ieri no io non riesco a capire quanto mangia perchè se prende il latte da seno io non lo posso misurare non è che ho un bel biberone che glielo misuro lì che ho preso quindi io non so è cresciuto si però non è che è cresciuto poco non è che abbiamo sbagliato i conteggi magari se oggi ha 10 minuti passi ci guardiamo un attimo me lo può ripesare anche oggi occupato dottoressa secondo me questo bambino mangia poco non mangia abbastanza ha mangiato un atto e mezzo di pasta e due fettine basta a me sembra poco secondo me deve mangiare di più un bambino deve crescere come fa con un atto e mezzo di pasta e due fettine a crescere? occupato dottoressa ha vomitato ha vomitato due volte due posso venire me lo può visitare perché io guardo sono così preoccupata non è che magari qualcosa appaggia ma sono molto preoccupata occupato pronto dottoressa salve no io stavo guardando il mio bambino e mi sembra che abbia la testa un po' grossa non è che potrebbe così darci un'occhiata mi infila tra un appuntamento e lato sono preoccupata non è che ti abbiamo costata sono preoccupata amore ma il golfino che ti avevo dato perchè non te lo sei messa? perché non ci sono 44 gradi ma vabbè amore il 10 luglio c'è un po' caldo però è un golfino perchè poi si sudi a solio e sudore dai amore che poi prendi aria prendi freddo e poi ti amari per favore dai metti il golfino Grazie a tutti